buongiorno a tutti benvenuti alla rassegna stampa di oggi oggi è mercoledì 15 marzo 2017 questa è fano tv sul canale 17 c'è la rassegna stampa tutte le mattine in diretta alle 7 e 30 ben ritrovati allora cominciamo subito dal santo del giorno e poi vediamo le previsioni del tempo oggi santa luisa di marilac il sole sorta alle 6 e 19 tramonterà le 18 e 15 il cielo oggi sarà sereno poco nuvoloso avremo tempo bello dunque con temperature che durante la mattinata saliranno quindi dai 5 gradi 4 gradi come sempre della notte aumenterà fino a 15 16 gradi poi domani ancora bel tempo cielo sereno vedete le temperature sono in lieve diminuzione quelle minime ma in lieve aumento quelle massime per venerdì ancora cielo sereno poco nuvoloso temperature in lieve aumento le minime ci sono un po di venti di brezza tesa sud occidentali sono moderati nelle zone dell'entroterra venerdì in particolare in quelle montagne dove ci saranno in montagna delle raffiche di vento fresco il tempo sarà buono ancora per tutto il fine settimana e anche l'inizio della prossima allora che cosa di che cosa si parla oggi sui giornali? Beh innanzitutto che ci sono tante persone tanti automobilisti indisciplinati alla guida sono tantissimi pensate che il comune di Pesaro ha incassato incasserà 2 milioni e 400 mila euro dalle multe e soprattutto c'è tanta gente che passa con il semaforo rosso e questo si vince anche per esempio anche a Fano dopo che hanno installato le nuove telecamere in viale primo maggio allora partiamo proprio da questa notizia dal Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro multe salasso per i pesaresi il comune incassa 2,4 milioni di euro nel preventivo l'introito è superiore di un terzo cinque sono gli autovelox in in uso a centropagine invece sempre da Pesaro via San Francesco è off limits per il cantiere partono i lavori di restyling quindi la sosta è bandita per le automobili rivoluzione per gli spazi dedicati ai disabili la scommessa è quella di cambiare il volto del centro storico di Pesaro in tre mesi ma andiamo a vedere una delle due pagine che il Corriere in primo piano mette sulla questione delle multe pensate come dicevo l'incasso delle multe nel bilancio di previsione del comune è di 3 milioni e 300 mila euro stima del gettito delle multe maturato fino al 2016 2 milioni e 400 ci sono 750 multe effettuate con l'autovelox l'anno scorso l'incasso di 89.257 euro i proventi delle sanzioni della Polizia Municipale sono utilizzati per le strade per la segnaletica e per nuovi automezzi gli autovelox come dicevamo sono cinque quelli in dotazione quello collocato sulla statale alla siligata non richiede la pattuglia e questa è la pagina del Corriere Adriatico andiamo invece a vedere la prima pagina del resto del carino anche qui vedete vista red tante multe non pagate quasi la metà finisce in un nulla di fatto affano la trappola diciamo così così la chiama ma è sulla statale vediamo allora qual è la pagina del resto del carlino i giorni delle multe allora vista red autostoppo fioccano i verbali e i semafori intelligenti di Pesorefano passano con il rosso 400 auto al mese avete capito bene a Fano si sono decisi dopo molti anni hanno installato all'incrocio del Lido delle telecamere modello anni 50 in effetti viste le dimensioni sembrano degli scatolotti degli scatoloni per riprendere i trasgressori del semaforo rosso e hanno fatto 100 perché già 600 multe circa dall'inizio di gennaio in modo così molto silenzioso sull'argomento è entrato sull'argomento prima di un articolo del carlino di una settimana fa non ci sono i cartelli che avvertono gli automobilisti della presenza di telecamere al semaforo che filmano i trasgressori e quindi insomma questa è però il comandante di Fano della Polizia Municipale dice Fuligno dice farò in modo di acquistarne subito altri per la sicurezza e in effetti pensare che ci sono tante persone che passano con il rosso al di là della sanzione al di là del fatto c'è anche un pericolo sono anche azioni molto pericolose quelle di passare con il rosso e che cosa succede quando uno viene pizzicato dalla telecamera passare con il rosso il verbale per questa infranzione è di 170 euro notifica compresa se si paga entro pochi giorni la cifra scende a 128 euro oltre a 6 punti della patente l'importante è non ricaderci entro due anni altrimenti si dovrà fare a meno della patente per almeno 6 mesi oltre che vedersi azzerati i punti quindi dunque queste sono le notizie in primo piano questa mattina sui quotidiani Carlino e Corriere allora andiamo adesso invece togliamo sul Carlino sulla pagina di Fano a Sant'Orso ci sono i negozianti del centro commerciale che sono un po' arrabbiati con il comune perché per realizzare la ciclabile il comune azzerrerà porterà via i parcheggi polemiche per la pista in via Sant'Eusebio Sant'Orso dice per esempio il titolare di una pizzeria dice Sant'Orso è il quartiere più grande di Fano ha tutti i servizi tranne il cinema facciamo le cose per bene mentre un altro dice i parcheggi sono già pochi basta vedere che cosa succede quando a Sant'Orso lì nella chiesa di Santa Marigoretti c'è un funerale non si trova mai un posto mentre il tabaccaio dice chi ha 70 anni deve fare la spesa al supermercato ha bisogno della macchina i parcheggi dunque sono essenziali e questa è la notizia sulla pagina di Fano del resto del Carlino nell'altra pagina invece il comune i parcheggi li realizza e infatti si legge dal titolo che sono in arrivo 121 nuovi parcheggi dunque li toglie a Sant'Orso ma li mette un po' sparsi nella città però sono tutti a pagamento si pagherà anche vicino al pronto soccorso il nuovo piano è stato elaborato da Aset Holding che ha avuto l'ok da parte della giunta e in questo articolo ci sono tutte le mappe di dove verranno installati questi nuovi parcheggi realizzati alcuni vengono trasformati in col disco rario insomma c'è un bel pezzo dettagliato ci sono per esempio in via Pizzagalli via Montegrappa via Indipendenza via 12 settembre la cronaca con il saluto il ricordo di Cristian Venturi il 38enne di Mondolfo morto domenica intorno alle 22.30 a Miramare di Rimini nello schianto della sua Alfa 156 è probabile che i suoi funerali si terranno nella giornata di domani il ricordo dell'ex titolare Aramis Garbatini con il quale per il quale Cristian Venturi ha lavorato una decina d'anni dice e ricorda era un ragazzo d'oro un gran lavoratore perseguitava un sacerdote non c'è il nome del sacerdote chiaramente si cerca di tutelare però c'è qualche qualche indicazione ha 43 anni è un parroco dell'entroterra dell'entroterra peserese ed è stato perseguitato da un 26enne albanese che ieri è stato condannato dal tribunale di Pesaro a 8 mesi di reclusione pensate gli aveva spaccato il crocefisso fatto a pezzi insomma aveva fatto di tutto lo perseguitava e così questo caso è finito in tribunale il religioso adesso dice è tranquillo non c'è più la situazione assolutamente tranquilla l'albanese aveva paura questo albanese di 26 anni aveva paura che il prete lo volesse far entrare dice lui in seminario ok allora queste sono le pagine che abbiamo visto dal resto del Carlino adesso torniamo sul Corriere Adriatico e cominciamo da Fano il teatro romano ora diventa una priorità per la regione è stato inserito nel piano triennale della cultura sono stati stanziati 180 mila euro per questo bienio e Renato Claudio Minardi vicepresidente del consiglio regionale dice così potremo realizzare il sito archeologico anche per finalità turistiche sotto ci sono buone notizie invece perché dal ministero sono arrivati 40 mila euro per il carnevale Fano infatti si aggiudica una quota dei fondi riservati alle manifestazioni storiche italiane ai carnevali storici d'Italia era una notizia della quale già abbiamo parlato nel 2015 a quella data infatti a quell'anno risale il bando che era stato pubblicato l'8 di ottobre e che riconosceva per la prima volta appunto tra i carnevali i carnevali come una manifestazione di rilievo culturale e tra questi c'era appunto anche il carnevale di Fano che adesso si è giudicata appunto 40 mila euro parla il rappresentante dei tabaccai rappresentante locale dopo l'ondata di furti con danni e quant'altro noi siamo penalizzati dallo Stato anche se eroghiamo un servizio è stato intervistato appunto questo rappresentante dei tabaccai l'ultimo colpo della banda del buco agli anni appunto di un tabaccaio è stato quello messo a segno al vallato nel quartiere vallato di cui vi abbiamo reso conto anche nei giorni nei giorni scorsi e questo è l'articolo che troverete sul Corriere poi ce n'è un altro che francamente fa un po' insomma riflettere storcere il naso poi si sa Facebook è un po' la zona è un po' il luogo in cui i malumori le gioie passano così scorrendo con il dito da un secondo all'altro e quando si arriva insomma quando si arriva al messaggio che riguarda la nuova scuola di Cucurano Carrara ci si imbatte in un commento del tipo con tanti fanesi illustri che tendono di essere ricordati la giunta di sinistra di Fano intitola la strada di accesso alla nuova scuola di Carrara Cucurano ad un illustre cieco slovacco non ho parole ripensateci questo è il messaggio che scorrendo a un certo punto è venuto fuori che cosa succede? succede che il comune di Fano ha pensato di intitolare niente meno che ad Alexander Dubček che è un noto leader comunista della primavera di Praga soffocata nel 68 dall'Unione Sovietica con i carri armati ha pensato di intitolare a questo cieco slovacco la strada la strada che porta questa scuola oltre al di là del fatto che insomma è difficile anche un pochettino da scrivere immaginiamo anche gli anziani oppure da dire eccetera eccetera ma veramente con tutti i personaggi con tutte dobbiamo andare addirittura indietro o comunque a scomodare un personaggio che per carità avrà fatto bene tutto quello che volete però ecco un personaggio comunista è la proposta però ecco vedete approvata dalla Giunta atto a un indirizzo del 2010 suggerito da Samuele Mascarini ok dalla Valle del Cesano fai un buon viaggio grande cri la tua allegria resta con noi il cordoglio su Facebook degli amici del giovane padre vittima della strada manca il nulla osta per il funerale dopo lo schianto fatale avvenuto domenica sera come dicevamo a Miramare di Rimini e poi la storia di un gatto ferito con un fucile a pallini scatta la denuncia siamo a San Giorgio di Pesaro il felino salvato con un intervento chirurgico i proprietari sono andati dai carabinieri e raccontano che questa cosa era già purtroppo accaduta da Senigallia nel Mirino la gestione dell'emergenza e la mancata manutenzione del fiume i nodi dell'indagine sull'alluvione per i carabinieri forestali sono 11 i responsabili del disastro delitto Lulli il processo ora è ad un bivio oggi si torna in aula a Pesaro con l'esaurimento dell'istruttoria ma è possibile che si richieda una super perizia la difesa di Mema punta agli arresti domiciliari sarà presentata un'analisi psicologica sulla personalità di Mario chiudiamo invece adesso e andiamo ad Ostra chiudiamo con una notizia che apre il cuore una notizia che come vedrete si è un lutto però trasmette gioia trasmette speranza chi vive una vita come hanno vissuto Irene e Diolete è come se avessero il telepass per il paradiso non c'è bisogno di costruire grandi santuari grandi opere grandi cose per andare in paradiso basta vivere semplicemente con amore come hanno fatto Irene e Diolete pensate e non è la prima volta non è una storia per fortuna dico io uniti oltre la vita pensate muoiono a 11 ore di distanza lunedì pomeriggio il marore fatale per lei a 86 anni ieri mattina si è andato anche lui che ne aveva 96 leggetevi questo bell'articolo di Sabrina Marinelli perché davvero racconta la storia di due persone che si sono amate tanto Barbiere lui casalinga lei i coniugi berrettini di Ostra erano molto conosciuti in paese e il figlio dice neanche la morte è riuscita a separarvi ciao babbo e ciao mamma e è toccante davvero è emozionante leggere come a un certo punto i figli hanno cercato di non dire a lui che lei era che lei era morta e quindi magari dirglielo piano piano ma lui nonostante tutto nonostante non sapesse nulla siccome la chiamava siccome la cercava non aveva risposta aveva intuito e così si è lasciato piano piano la raggiunta piano piano bellissimo eccezionale allora noi ci salutiamo ci troviamo stasera alle 20.30 nel telegiornale occhio alla notizia domani mattina invece torneremo come sempre puntuali qui alle 7.30 auguro a voi tutti di trascorrere una buona giornata arrivederci a presto a presto